Sopravvissuti La mostra è inaugurata sabato 23 marzo alle Scuderie Medice di Poggio a Caiano. La mostra racconta la tenacia e il coraggio di coloro che sono sopravvissuti a gravi incidenti sul lavoro, un tema di grande attualità. In secondo luogo parleremo dei lavori di ripulitura iniziati lunedì 25 marzo al Monumento ai Caduti di Piazza 20 Settembre. È un monumento storico che è in onore dei caduti della Grande Guerra e è un monumento a cui tutti i poggesi sono fortemente affezionati. I lavori dureranno all'incirca una settimana. Infine l'ultimo argomento tratta le fototrappole che insieme alle telecamere di videosorveglianza costituiscono lo strumento che l'amministrazione comunale può utilizzare per il controllo del territorio e per la sicurezza di tutti i poggesi. Una mostra fotografica per raccontare la vita di chi ha subito un infortunio sul lavoro. Stiamo parlando di sopravvissuti. La mostra di 10 scatti, 10 fotografie inaugurata sabato 23 marzo alle scuderie di Poggio a Caiano. L'artista è Mauro Moriconi mentre ospite d'eccezione è Pasquale Padovano, unico superstite del disastro di Linate dell'8 ottobre 2001. Un momento e un modo per riportare l'accento sul grave tema degli infortuni sul lavoro che purtroppo ancora oggi esiste. Cosa si prova dopo essere sopravvissuti per miracola a un evento drammatico e come si può guardare con speranza al futuro nonostante il trauma subito? Una risposta ci aiuta a darla alla mostra Sopravvissuti dell'artista lucchese Mauro Moriconi realizzata in collaborazione con Lammil e il patrocinio del comune di Poggio a Caiano. Allestita alle scuderie medice, l'esposizione propone una serie di fotografie che raccontano la storia di persone sopravvissute a un trauma mentre si trovavano al lavoro. Che le ha condotti a una condizione di invalidità e mutilazione fisica ma che nonostante ciò hanno trovato la forza di guardare avanti. Questa è una mostra che ha il valore aggiunto del tema sociale. Se vedete e se avrete occasione di vedere queste fotografie ci hanno colpito per la loro positività perché queste foto trattano un tema estremamente delicato, molto complesso, molto difficile come l'handicap ma non troverete sofferenza ma troverete uno sguardo al futuro. La bellezza di queste fotografie è proprio questo. Mauro Moriconi è riuscito a parlare di questo tema guardando al futuro. In che modo il titolo sopravvissuti è importante? È importante perché fa vedere il contesto della vecchia fabbrica che ormai non ce l'ha fatta che a differenza dell'uomo che è stato invece anch'esso sofferente alla fine è sopravvissuto al peggio. E questa è la mostra, proprio questa è la tematica importante su cui io vorrei soffermarmi e farvi vedere. Spero che vi piaccia. Testimonial della mostra Pasquale Padovano presenta all'inaugurazione ex dipendente della SEA è l'unico superstite del disastro avvenuto nell'ottobre del 2001 all'aeroporto di Linate quando in fase di decollo un aereo privato si scontrò con un volo di linea causando un devastante incendio in cui persero la vita ben 118 persone. Ho fatto tre passi da dove avevo il trattorino, sento un botto che non... guarda nell'orecchio qua c'è il fischio da scoppio che non si può fare niente e mi giro e dietro a Portellona vedo l'ala di Cocaccio, qua c'è un aereo dietro... mamma mia! Neanche il tempo di fiatare, come ho aperto la bocca, mi guardo addosso e vedo il vestito non avevo più, avevo tutta la pelle che gocciolava già. Ma come ho visto così è saltata la corrente e io sono scappato via subito, sono scappato via subito perché si sono aperte tutte le porte e sono andato fino su Viale Pornonini, non so, la via che porta in aerostazione. Vado lì, là c'era un finanziere che mi ha buttato... io già cercavo di spegno perché ormai ero tutto bruciato dalla testa fino alle ginocchia. Cercavo di spegnere il pieno a zero ma quindi di spegnere il pieno addosso, niente, poi vedo arrivare la buonanza, sono salito con le mie gambe sulla buonanza, questo ci tengo a dirlo. Sono iniziati lunedì 25 marzo i lavori di ripulitura del monumento ai caduti di piazza 20 Settembre a Poggio a Caiano. È un'opera importante a cui tutti i poggesi sono legati e la sua ripulitura, questo restyling, ha proprio l'obiettivo di restituire a tutti i cittadini del Comune Mediceo un monumento a cui sono affezionati e che è presente proprio nella cittadina dal 1930. Il monumento ai caduti della Grande Guerra si rifà in look. Sono iniziati lunedì mattina i lavori di ripulitura del monumento ai caduti in piazza 20 Settembre a Poggio a Caiano, realizzato dallo scultore Mario Moschi e inaugurato nel 1930. In particolare il lavoro durerà una settimana circa e si suddividerà in cinque parti. La prima prevede un consolidamento superficiale, utile a preservare la superficie dal trattamento di pulitura stesso. Nella seconda fase saranno rimosse o ridotte le stuccature ormai deteriorate per poi applicare uno speciale prodotto che possa rimuovere gli addensamenti di origine batterica, dopodiché seguirà la vera e propria pulitura per la rimozione delle incrostazioni. Nella quarta fase sarà effettuato un accurato lavaggio con acqua deionizzata e con degli speciali spazzolini per l'asportazione di tutti i residui dell'impacco. Come ultima cosa sarà applicato un trattamento finale necessario a ridurre gli effetti degli agenti atmosferici sulla superficie della pietra. Dal 1930, quando Moschi realizzò questa opera per la nostra città, questo è un monumento al quale tutti noi siamo fortemente legati. Presso questo monumento svolgiamo la gran parte anche delle cerimonie civili dell'anno e quindi è un luogo di incontro e di ritrovo per tanti foggesi. Meritava un piccolo restyling, ringiovanimento, gli facciamo un po' il lifting, grazie anche ai contributi della regione toscana che l'anno scorso sono stati erogati proprio per ricordare il centesimo anniversario dalla fine della Grande Guerra. Quindi un intervento che permetterà di poter riportare a nuova luce questo nostro monumento al quale siamo tutti legati. L'intervento di ripulitura del monumento ai caduti è finalizzato, tra le altre cose, all'abbellimento del centro storico del Comune Mediceo e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città. Devo dire che però è anche un intervento significativo perché rappresenta un po' il nostro modo di lavorare. Una città non si amministra soltanto con le grandi opere ma anche con l'attenzione alle piccole opere di tutti i giorni. Questo è un intervento piccolo nell'importo e nel svolgimento, si tratta di una settimana di lavoro, ma significativo perché dimostra proprio che l'attenzione al centro che vogliamo costruire e rendere sempre più bello passa proprio anche attraverso le piccole opere esattamente come questa e le prossime cerimonie civili avremo finalmente il monumento a caduti riportato a nuova vita con un bel appunto restyling per il quale veramente ringrazio la regione toscana. È stato finalmente completato il sistema di videosorveglianza del territorio di Poggio a Caiano con l'installazione di telecamere ma anche di fototrappole. Le zone in cui si trovano le fototrappole sono quelle più marginali perché lo scopo di questi sistemi è proprio quello di intercettare coloro che abbandonano illecitamente dei rifiuti. Quindi uno strumento in più in mano all'amministrazione comunale per il controllo del territorio e anche per la protezione dei poggesi. Quattro telecamere mobili per il controllo e il contrasto all'abbandono dei rifiuti sono da adesso in dotazione al comune di Poggio a Caiano. Il sistema di videosorveglianza mobile, attivo 24 ore su 24 e con immagini a colori, consentirà al comune di poter contare su quattro occhi in grado di sorprendere chi abbandona i rifiuti e chi commette degli illeciti sul territorio. Le immagini sono infatti a disposizione delle forze dell'ordine. Questi nuovi strumenti, le cosiddette fototrappole, rafforzano e rendono più mirato il controllo del territorio da parte della municipale. Sono state posizionate per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. È un fenomeno che fortunatamente non è così frequente, appoggia a Caiano, ma sporadicamente, senz'altro, si ritrovano dei gesti assolutamente di inciviltà da contrastare e che già proviamo a fare con delle ispezioni settimanali da parte della Polizia Municipale e grazie anche all'introduzione di quattro punti fototrappola, questi strumenti serviranno alla Polizia Municipale per sempre più reprimere questo fenomeno assolutamente inaccettabile. Grazie ai nuovi strumenti di videosorveglianza attiva di cui si è dotato il Comune Mediceo, l'attenzione delle forze dell'ordine potrà essere distribuita su tutto il territorio comunale, dal centro storico fino alle aree limitrofe, che sono spesso più soggette rispetto a quelle centrali all'abbandono illecito dei rifiuti. Uno dei punti di forza delle fototrappole è anche la loro flessibilità, consentono infatti di essere periodicamente spostate e riposizionate nelle zone che, secondo le autorità competenti, necessitano di maggior controllo. Quattro punti fototrappola che il Consiglio Comunale ha deliberato nell'ultimo consiglio, nel nuovo regolamento sulla videosorveglianza dove appunto sono contemplate anche le fototrappole, dando poi alla Giunta Municipale la possibilità di spostarle laddove risulta necessario andare a indagare. Quindi è uno strumento flessibile a disposizione del Comando di Polizia Municipale. Attualmente le zone che sono coperte sono alcune aree artigianali, alcune zone a verde più interessate da questo fenomeno nei mesi e negli anni passati, ma chiaramente laddove sarà necessario intervenire per, speriamo mai, ma insomma ulteriori fenomeni di abbandoni, avremo uno strumento per poterli contrastare. In conclusione di puntata, la nostra agenda con tutti gli eventi in programma Poggio Accaiano. Iniziamo da sabato 30 marzo alle 17, quando alla Villa Medicia di Poggio Accaiano l'autrice Ginevra Bompiani rileggerà uno dei primi testi narrativi della storia della scrittura, i poemi di Ghigligamesh, evento parte della rassegna Autori di Oggi, Capolavori di Ieri. Vi ricordiamo inoltre i due appuntamenti che proseguono, la mostra Soffice Picasso, che resterà aperta fino a domenica 14 aprile presso il Museo Soffice del Novecento Italiano. È visitabile dal venerdì alla domenica in orario 10.13 e 14.30, 18.30. Ricordiamo inoltre che fino a domenica 31 marzo l'ingresso è gratuito per tutte le donne. Infine la mostra Il Centro che verrà, allestita presso le Scudini e Medice, restare in mostra fino a sabato 25 maggio. In mostra tutti i progetti presentati per la riqualificazione di piazza 20 settembre, orario di apertura 9.30.13 e 14.30, 18.30, da lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13 il sabato. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi appuntamento alla prossima puntata di Poggio Accaiano Informa. Grazie per aver guardato il video,